Sì, sicuramente dopo più della partita, però l'importante è che siamo usciti a contattarmi. Senti Toro Mino. Scusa, è stato un problema generale di tutta la squadra, però anche perché nel primo tempo è un po' di maggiore difficoltà, non riuscite a affrontare. Nel secondo tempo, non so cosa si tratta di voti, capiranno, si tratta di bloccato tutti, e anche tu si tratta di molto meglio. Cos'è cambiato? Sicuramente l'inizio non è stato facile, sicuramente per il caldo che c'era, perché era veramente un caldo pesante. Poi è normale che in monopoli la squadra era sicuramente attrezzata per permettere di portarla sia a squadra come a noi, nel senso che conosco molto bene il viste, quindi risolvete preparare molto bene le partite, era sicuramente preparata la parola di tutti noi, sapevamo di trovare le difficoltà, poi il gol ha sbloccato la partita quando c'è stato il calcio di rigore, ti ho visto andare a prendere subito la palla con una certa grinta, era predisposto che dovessi tirare tu o hai chiesto tu di tirare? Hai strappato il pallone. A proposito del leader, il discorso che facevamo la scorsa settimana, anche queste cose sono importanti in tal senso. Sicuramente è una responsabilità che volevo prendermi. Un'altra cosa che volevo chiederti, a che punto è la squadra dopo Genoa e dopo oggi? Era il Lecce che ti aspettavi oggi? Perché dobbiamo dire che il monopoli è stato un po' sfortunato sullo 0-0, oltre alla traversa ha avuto altre due occasioni. Ma secondo me, sapevamo di trovare queste difficoltà, perché era una prima partita, quindi non è stato facile per noi. Il Lecce che mi aspetto, magari non abbiamo fatto un gioco bellissimo, però alla fine l'importante è il calcio, noi siamo riusciti a portarli, quindi magari tu non sei bellissimi, però l'importante è la vincere. Un'altra domanda è la gioia. Nel primo tempo, per il vostro evidente, tu mi facili? Spiego, di tutto in vista, non si può considerare una fase se non c'è la partecipazione collettiva della squadra. Quindi pensare che gli attaccanti siano bravi solo perché sono bravi o i difensori non siano tanto bravi perché individuamente non siano bravi, è un discorso che non posso sostenere, perché è retuto di sia, che cosa vuoi dire? Che negativi la risposta è il lavoro di una squadra al competo, cioè un lavoro complessivo. Quindi se facciamo male dietro, a parte errori individuali, come nell'occasione del dono, che Giosa in maniera opportuna ha provocato, credo che è da analizzare il lavoro complessivo, sia della fase attiva che della fase massiva. Viste qualche problema in più, l'impostazione le ha creato, probabilmente quel riduci il collaglio, non riusciva a provare quell'altro. Non è stato sempre una sorpresa. Credo che il monopoli abbia avuto questo tipo di atteggiamento anche contro altre compagini, almeno per quel po' che abbiamo potuto vedere, però l'abilità di una squadra sta anche a trovare una soluzione alternativa. In parte ci hanno impedito di trovare delle soluzioni, credo che poi alla fine qualcosa di buono viene fatta vedere, non è tutto negativo. Sotto questo punto di vista mi apposo molto bene il volo di viceversa. Beh sì, avendo le mancature uomini è chiaro che ci sia uno scambio di posizioni, la mancature uomini, che prevede che ci sia qualcuno che faccia dei movimenti per far giocare qualcun'altro e l'intera di più libero. L'abbiamo fatto, non comunque con identità, ma l'abbiamo presente. Mister, buonasera. Buonasera. Tre battute. Una, nel chiederle quando accetta una squadra di serie B, così non viene più a giocare la monopoli. Visto che è la terza vittoria consecutiva. è la terza vittoria.